Agropoli sarà presente alla 17esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico in programma dal 30 ottobre al 2 novembre a Pestum per promuovere ad una platea qualificata di operatori turistici e culturali il proprio patrimonio storico, artistico e culturale. Il castello Angioino Aragonese, il borgo medievale, il palazzo civico delle arti con la sua sezione archeologica all'antica fornace di campamento, afferma il sindaco di Agropoli, Franco Alfieri, sono alcuni dei principali attrattori della nostra città che proporremo all'attenzione di operatori specializzati nell'ambito della nuova edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Pestum. Eccellenze sulle quali puntiamo in un'ottica di una strategia di sviluppo turistico legata in particolar modo alla cultura. La Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Pestum rappresenta un luogo di approfondimento e divulgazione di temi dedicati al turismo culturale e dal patrimonio, un'occasione di incontro per gli addetti ai lavori, per gli operatori turistici e culturali, per i viaggiatori, per gli appassionati ed un'opportunità di business nella suggestiva location del Museo Archeologico, con il workshop tra la domanda estera e l'offerta del turismo culturale ed archeologico.